Tribolazioni, affidamento, face. Intorno a queste tre parole, Papa Francesco ha costruito l'omelia della Messa celebrata a Casa Santa Marta. Partendo da un passo degli Atti degli Apostoli, il Pontefice ha rimarcato che il cristiano non è un masochista, ma riesce a sopportare le inevitabili tribolazioni della vita con spirito di fiducia e di abbandono. A tutti ha chiesto poi di affidarsi alla tenerezza del Padre Celeste per attingere forza, perseveranza nella fede e speranza. Tre parole, tribolazioni, affidamento e pace. Nella vita dobbiamo andare in strada di tribolazione, ma è la legge della vita. Ma in quei momenti è affidarsi al Signore e Lui ci risponde con la pace. Questo Signore, che è Padre, ci ama tanto e mai delude. Continuiamo, continuiamo adesso la celebrazione eucaristica col Signore, chiedendo che rafforzi la nostra fede e la nostra speranza, chiedendo di darci la fiducia di vincere le tribolazioni, perché Lui ha vinto il mondo e donarci tutti la sua pace. Lui ha vinto il mondo e donarci il mondo e donarci il mondo e donarci il mondo e donarci il mondo. Grazie. Grazie.